Il cielo ha sempre affascinato l'uomo. Ci fa pensare a chi siamo, da dove veniamo, quale sarà il nostro futuro. Gli antichi, per millenni, hanno osservato il cielo a occhio nudo. Hanno identificato i pianeti, calcolato le orbite, calcolato la posizione delle stelle, usato il cielo per misurare il tempo. Poi, nel novembre del 1609, a Padova, c'è stato un signore di nome Galileo che ha puntato per la prima volta un telescopio rudimentale verso la Luna e non avendo una macchina fotografica, ha disegnato quello che vedeva. E quei disegni sono uguali alle foto di oggi. Galileo, Copernico, Tico Brahe, Keplero, hanno raccolto l'eredità di migliaia di anni di osservazioni ad occhio nudo e dato il via a quella che noi oggi conosciamo come astronomia da terra. 400 anni dopo è partita la conquista dello spazio. Nell'anno mondiale della geofisica, il 4 ottobre del 1957, dalla base russa di Baikonur è stato lanciato il primo satellite artificiale della Terra, lo Sputnik, un oggetto piuttosto grosso, 83 kg, che dentro non aveva praticamente niente, una batteria e un'antenna per dire dov'era. Il 31 gennaio del 1958, dalla base di Cape Canaveral, è partito un oggetto decisamente più leggero, circa 14 kg, l'Explorer 1, che però a bordo aveva dei rivelatori di particelle, dei detector, che sono gli occhiali che indossiamo per osservare la natura e capire come funziona. Sono gli occhiali che ci aiutano a trovare risposte alle nostre domande. Io sono un fisico che disegna occhiali per osservare la natura. L'Explorer prenderà dati per 111 giorni e scoprirà le fasce di Van Allen. Ma in quei 400 anni, i fisici si sono resi conto che l'universo ci raccontava un sacco di storie in più rispetto a quello che si aspettava Galileo. Perché la luce è solo una piccola parte della radiazione elettromagnetica, onde con lunghezza d'onda di qualche centinaio di nanometri. Ma io potrei tranquillamente parlarvi delle onde radio, che hanno lunghezze d'onde di decine e centinaia di metri, che noi a Terra usiamo per ascoltare le trasmissioni radiofoniche, e ci sono galassie che emettono onde radio. Oppure microonde, come quelle che noi a Terra usiamo per scaldare i cibi. Oppure infrarossi, che sono quelli che a Terra usiamo per cambiare canale alla TV. E potrei continuare così per tutto lo spettro elettromagnetico, fino ad arrivare alle onde con la lunghezza d'onda più piccola in assoluto, i raggi X e i raggi gamma, che sono quelli che usiamo per guardare dentro il vostro corpo quando vi facciamo una radiografia, o per curare con la radioterapia un paziente malato di tumore. Dovete pensare all'universo come a un bellissimo romanzo. Pensate a un romanzo giallo, in cui ogni capitolo è scritto in una lingua diversa, e ogni capitolo è una bellissima storia a sé. Però se non siete capaci di leggerli tutti, non riuscirete mai a risolvere il mistero e trovare chi è il colpevole. Allora il compito dei fisici come me, che disegnano occhiali per osservare la natura, detector, è quello di disegnare occhiali che ci permettano di leggere ogni singolo capito, metterli insieme e trovare il colpevole. Allora benvenga la luce visibile di Galileo. Ma non semplicemente con i telescopi messi a terra. Noi abbiamo messo dei telescopi sopra l'atmosfera, perché così ci siamo liberati delle perturbazioni dell'aria. E abbiamo visto anche i raggi infrarossi, i raggi ultravioletti, che a terra non arrivano. Il 24 aprile del 1990 è stato messo in orbita il telescopio Hubble. Un oggetto enorme, un gigante, nella parte più grande ha un diametro di 4 metri, è più lungo di un autobus, pesa più di 11.000 chili, ha bisogno di 2100 watt per funzionare. E fa fotografie. Fotografie come i vostri cellulari, un po' più grandi, un po' più precisi. Ma fotografie. Fotografie come questa. Questa è la fotografia di un ammasso globulare di stelle. Centinaia di migliaia, a volte milioni di stelle, che si sono tutte formate nello stesso momento. E se io tramite queste immagini riesco a misurare la luminosità di queste stelle e paragonarla a quella del Sole, sono capace di dire quanti anni hanno. Gli ammassi globulari di stelle sono i nostri orologi cosmici. E confermano che il nostro universo ha circa 13.7 miliardi di anni. E se invece ci spostiamo nella parte dello spettro con le onde, con la lunghezza d'onda più piccola in assoluto, i raggi gamma, la storia che vi racconto è completamente diversa. Dagli inizi del 1900, noi fisici, parliamo indifferentemente di particelle e onde. Ce l'hanno insegnato Einstein e colleghi. Particelle e onde sono la stessa cosa. E il risultato è tutta l'elettronica che voi utilizzate ogni giorno. I raggi gamma sono fotoni, cioè particelle prive di carica e di massa, che quindi, quando vengono emesse da una sorgente, sono in grado di fare una marea di strada senza risentire di niente. E se noi le vediamo, identifichiamo le sorgenti. In questo modo possiamo studiare le sorgenti più energetiche dell'universo, quelle rappresentative dei fenomeni più catastrofici dell'universo. Possiamo cercare la voce del Big Bang. E se vogliamo vedere i raggi gamma di altissima energia, costruiamo a terra degli specchi di 90 cm di diametro, che poi mettiamo insieme a costruire specchi giganti di centinaia di metri quadri di aria, che catturano la luce emesse dalle particelle prodotte da questi raggi gamma quando arrivano all'interno dell'atmosfera. E se invece vogliamo vedere dei raggi gamma con un'energia un po' più bassa, mettiamo un satellite sopra l'atmosfera. E questo è quello che ho fatto anch'io. Io ho partecipato alla costruzione del satellite agile, astro-rivelatore gamma a immagini leggero, un satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana che deve aiutarci a leggere il capitolo dei raggi gamma e dei raggi X. Io mi sono occupata del cuore del satellite, un cubo di circa 45 cm di lato, tutto fatto di rivelatore al silicio, che sono gli stessi rivelatori che stanno dentro i vostri cellulari, dentro le vostre macchine fotografiche, dentro i vostri personal computer, dentro tutta l'elettronica che avete, che sono i rivelatori che usiamo per vedere i raggi X quando vi facciamo un'attacca. È in pratica una piccola macchina fotografica in cui questi raggi gamma invisibili diventano pixel accesi per cui io posso ricostruire la direzione da cui arrivano e identificare l'assorgente. Poi questo cuore, assieme ad altri rivelatori, è stato messo nel satellite, con i suoi pannelli solari per catturare l'energia del sole, i sensori stellari per capire dove siamo, la coperta termica, perché quando di fronte al sole sente caldo, ma quando è nell'ombra della Terra ha parecchio freddo. E questo oggetto di pochi più di 350 kg è stato inserito nel missile ed è partito il 23 aprile del 2007 dalla base indiana di Sri Ahrikota. 20 minuti ed è arrivato in orbita, 540 km di altezza, orbita equatoriale, angolo di 2.5 gradi. 90 minuti dopo, passando sopra la base a terra di Malindi, ci ha fatto ciao per dimostrarci che era ancora tutto intero. E da dieci anni, ha compiuto dieci anni, un mese e mezzo fa, osserva le profondità dell'universo e ci fa vedere sorgenti che appaiono e scompaiono. Ci ha fatto cambiare idea su sorgenti che pensavamo funzionassero in tutt'altro modo. Ci fa leggere il capitolo dei raggi gamma. Ma i raggi gamma non sono gli unici messaggeri catastrofici e energetici dell'universo. Ognuno di noi è attraversato ogni secondo da svariati miliardi di neutrini. E non se ne accorge, i neutrini sono particelle di piccolissima massa che non hanno carica. Quindi anche loro, quando sono emessi dalla sorgente, fanno una marea di strada senza che niente possa fermarli. Il problema è che sono particelle elusive, cioè interagiscono poco con la materia. Nel frattempo che io parlo di qua saranno passati decine di milioni di miliardi di neutrini e nel frattempo che io ho finito quelli saranno già oltre l'orbita di Marte. L'unico modo che abbiamo per vederli è usare tanta materia e sperare che interagiscano. E la materia più facile da trovare sulla Terra è l'acqua. Per questo motivo i fisici giapponesi di Super Kamiokande hanno riempito un'intera miniera, la miniera di Kamioka, mille metri sottoterra, con 50.000 tonnellate di acqua pura. E poi hanno piastrellato tutte le pareti della miniera con questi oggetti che si chiamano fotomoltiplicatori, hanno un diametro di 50 centimetri, funzionano come i nostri occhi, vedono la luce. Perché l'unico modo per vedere un neutrino è che quando interagisce col protone o col neutrone delle molecole d'acqua emette elettroni o i suoi fratelli un po' più pesanti, i muoni, che nell'acqua vanno più veloci della velocità della luce nell'acqua. Perché la luce è la cosa più veloce in assoluto nel vuoto, 300.000 km al secondo, ma in un mezzo le particelle possono essere più veloci e allora emettono luce. Si chiama radiazione Cerenkov, è una radiazione blu. L'unico modo che abbiamo per vedere i neutrini è fotografare la luce che deriva dalla loro interazione con l'acqua. E se non volete riempire di acqua una miniera, usiamo il ghiaccio Ice Cube al Polo Sud, un chilometro cubo di ghiaccio. Pozzi profondi, 2820 metri, scavati da trivelle che vanno a due metri al minuto, in cui calate velocemente queste colonne di fotomoltiplicatori che sono le nostre macchine fotografiche e poi il ghiaccio richiude tutto. E quello che fanno queste macchine fotografiche è fotografare la luce emessa dalle particelle prodotte dai neutrini quando attraversano la Terra. E in questo modo Ice Cube ha visto i tre neutrini più energetici che si siano mai visti sulla Terra. Hanno un'energia, gli hanno dato persino un nome, hanno un'energia che è centinaia di volte quella dei protoni che facciamo a scontrare a LHC e al CERN. Sono briciole di Big Bang. E nell'emisfero boreale, invece del ghiaccio, usiamo l'acqua. KM3Net nel Mediterraneo, Tolone, la Grecia, 80 chilometri a sud-est di Capopassero in Sicilia, a 3.500 metri di profondità, colonne di queste macchine fotografiche, tra virgolette, che devono anche resistere alle correnti marine e non andarsene dove vogliono, per fotografare la luce emessa dai neutrini quando interagiscono con l'acqua del mare. e farci leggere così il romanzo dell'universo. L'esplorazione dell'universo è un viaggio bellissimo. Il 5 settembre del 1977 è partita dalla base di Cape Canaveral, la sonda Voyager 1. Doveva fotografare da vicino alcuni pianeti. Il 14 febbraio del 1990 si trovava a 6 miliardi di chilometri dalla Terra. Ci ha fotografati e ci ha mandato questa foto. Questa foto è nota come Pale Blue Dot, il pallido puntino blu. Ho anche cerchiato il puntino per farvi vedere dove siamo. Carl Sagan, famoso astronomo e divulgatore, di questa foto diceva è qui, è casa, è noi. Tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro che siano mai esistiti hanno vissuto qui, nell'unica casa che abbiamo, questo pallido puntino blu. Tra 300 anni la sonda Voyager 1 arriverà nella patria delle comette, la nube di Hort. Ma a quel punto la sorgente di plutonio che fa funzionare l'antenna si sarà esaurita e non potrà più comunicare con noi. Sarà i nostri occhi e le nostre orecchie, ma noi non sapremo quello che vede e quello che sente. Ma non per questo ci arrenderemo, perché esplorando l'universo ascoltiamo la voce del nostro passato, cerchiamo risposte alle nostre domande, esplorando l'universo disegniamo il nostro futuro, perché cresciamo non solo come scienziati, ma cresciamo soprattutto come uomini. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie.